Sono stati diversi i motivi di festa per la comunità di San Giacomo di Rupinaro che nel giorno della solennità dell'ascensione si è riunita per la celebrazione eucaristica domenicale durante la quale è stato amministrato il sacramento del battesimo alla piccola Gaia. Molto emozionante perché siamo dei foresti milanesi che viviamo qua da tanti anni e forse è il momento più importante in cui ci siamo comunque sentiti accolti da questa nuova comunità in fondo. Come avete incontrato la comunità di Rupinaro? Casualmente grazie al Don che l'ha conosciuto per altre cose che è una persona escezionale e molto gradevole quindi grazie. Com'è Gaia? Buona, è un angelo. La parrocchia si colloca in un'area di confine tra il centro città e la strada che conduce verso le periferie. La comunità raccoglie un'ampia fetta di popolazione chiavarese non solo. Molte le famiglie che partecipano alla messa domenicale e alle attività proposte. Molti anche i giovani che animano con la loro presenza la liturgia. Quanto provate? Proviamo il mercoledì sera e poi arriviamo sempre un po' prima la domenica e proviamo. La cosa che apprezzo della nostra comunità dei giovani sicuramente è che, a parte che siamo molto amici, quindi c'è un gruppo che si rinforza grazie all'amicizia di fatto per essere cresciuti qua, per fare un cammino di fede, quelli più grandi soprattutto di noi. Di sicuro l'amicizia tra di noi e anche proprio l'ambiente che è valido di sicuro, ci divertiamo e impariamo tanto dai bambini, anche da Don Fausto che di sicuro ha questa capacità di tenere anche vicini i giovani. Nella giornata a sostegno di Teleradio Pace le nostre telecamere sono entrate a contatto con questa realtà. Grazie a tutte le parrocchie che hanno contribuito con le loro preghiere e le loro offerte, Telepace può andare avanti nel servizio alla collettività. Noi siamo una televisione comunitaria nei fatti, siamo sostenuti da una comunità, anche oggi si vede, lo vediamo in tante delle nostre parrocchie che oggi dedicano la giornata per sostenerci e lo siamo anche come spirito, vogliamo essere una televisione a servizio della comunità, davvero a servizio della comunità senza secondi scopi. Quindi grazie del vostro sostegno e fate sì che la giornata di Teleradio Pace continui.